Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Per il calcio di serie D il Campobasso si prepara ad ospitare il Castelfidardo. L'Olimpia agnonese prepara la trasferta di Re Canati per entrambe le molisane in palio punti pesanti. Campobasso e Castelfidardo si scontreranno con un atteggiamento tattico probabilmente speculare. Per i rosso-blu ci mettiamo la mano sul fuoco senza paura di bruciarla. Qualche dubbio maggiore per il tecnico Vagnoni dei Marchigiani che spesso ha virato verso il modulo a tre punte. Ad ogni modo le squadre dovrebbero confrontarsi con un 3-5-2. Le formazioni del momento, anzi forse le meno battute da qualche domenica a questa parte. Per i Marchigiani l'ultima sconfitta sta scritta al 18 dicembre al Benelli di Pesaro. I Campobassani ripresi da Foglia-Manzillo hanno vinto quattro partite, pareggiate tre e persa soltanto una a Monte San Giusto. Il Campobasso si è lasciato ammirare non solo per l'utilità delle proprie gare in fatto di punti ma anche per le prestazioni che non sono mai venute meno. Foglia-Manzillo non può avere troppi segreti per una formazione che ricalcherà quella vincente contro il San Nicolò. A consolare non poco l'allenatore del Campobasso il rientro di Benvenga dalla squalifica. Ma per Marranno ben quattro defezioni, Varsi e Capozzi squalificati, Bisceglia e Menna infortunati. Vagnoni del Castelfidardo avrà tutti arruolabili, tranne Grazioso che salterà sicuramente il Campobasso per un risentimento muscolare. Tornerà nei ranghi, lì spiche all'andata, si infortunò pesantemente. Rottura del perone per lui, smaltita dunque nel giro di quasi 20 settimane. Continua l'appassionante comunicazione via Facebook del presidente del Campobasso, Danilo Leone. Nel post ultimo l'esponente rosso-blu inquadra Campobasso-Castelfidardo come una partita decisiva per il raggiungimento del quinto posto. Allo stesso tempo Leone invita i tifosi a venire a Selvapiana, consapevole però che gli stessi preferiranno le proprie abitazioni allo stadio. Parole di Leone che conclude elogiando i ragazzi della Curva Nord Scorrano, quelli che, parole del presidente, non ci lasciano mai da soli. Nelle ultime ore è comparso in pieno centro cittadino a due passi dal comune uno striscione organizzato proprio dai tifosi del Campobasso con su scritto «Questo stadio merita rispetto, non costringeteci a puntini sospensivi». Destinataria, evidentemente, l'amministrazione comunale di Campobasso rea di aver relegato nel degrado la struttura sportiva. Quest'ultima effettivamente è in stato di totale abbandono in attesa che vengano ultimati i lavori di potenziamento la cui auspicabile fine è prevista per il mese di luglio prossimo. Sotto la lente di ingrandimento del tifo probabilmente anche lo stesso manto erboso lasciato per mesi all'incuria e senza irrigazione fino all'arrivo in città del Campobasso ad agosto quando il manto erboso lasciò il posto ad una triste sterpaia. Ad Agnone sono previsti cambiamenti anche radicali in vista della complessa trasferta al Tubaldi di Recanati, una sfida che sa di play-out vista la posizione di classifica di entrambe le squadre. Nell'allenamento classico del giovedì Di Meo ha fatto lavorare con le possibili riserve l'attaccante Giglio, sicuramente un elemento che ha reso al di sotto delle aspettative finora. In linea teorica sono alle viste cambiamenti anche nel reparto mediano. Di Meo, visti i risultati non soddisfacenti, sta ragionando dunque a due o tre cambiamenti di formazione. A centrocampo lo stesso Medi potrebbe beneficiare di un turno di riposo. A sostituirlo in pole position c'è l'interessante classe 99 Marino. Agnone che va a Recanati probabilmente con un classico 4-4-2 e con un reparto offensivo che potrebbe essere affidato al tandem De Stefano e Santoro. Le giornate si assottigliano e i punti pesano come Macigni. Domenica il discorso varrà sia per gli alto molisani ma anche per la squadra di Recanati che vanta un solo punto di vantaggio su quella di Di Meo. I latini lo avrebbero definito una partita da mors tua, vita mea. Basket per la molisana Campobasso. Sosta di campionato per dare spazio alla Final 8 di Coppa Italia di Serie A2 femminile. Le Rosso-Blu intanto proseguono gli allenamenti in vista del ritorno sul parquet. In programma il 3 marzo al Palapazzieri arriverà il Faenza. In Serie B maschile in campo domenica alle 18. Il Globo Isernia ospita il Capo d'Orlando. Il Benafro a Barcellona, Pozzo di Gotto in Cisilver. Nel weekend termina la prima fase del campionato. Domenica l'Aerino Basket Termoli ospiterà l'Aquilano. Palla 2 alle 17. Calcio a 5 di Serie B per la diciassettesima giornata. Chaminade, Fuzz al Capurzo, Fuzz al Canosa, Giovinazzo, Fuzz al Ruvo, Fuzz al Altamura, Manfredonia, CLN Cusmo Lise, Real Dem, Tombesi, Sagittario Prato, L'Atletico Cassano. Domani al Pala Selvapiana arriva il Capurzo. Prossima avversaria della Chaminade, il CLN Cusmo Lise di scena a Manfredonia. Diciassettesima giornata nel campionato di Serie B cadetto. Domani pomeriggio ci scende in campo con CLN Cusmo Lise e Chaminade. Obiettivo playoff per entrambe. A sei giornate dalla fine della regular season, le rappresentanti del Fuzz al Molisano cullano il sogno di entrare nei playoff. In realtà la Chaminade è già nella griglia con il quarto posto attuale. Al contrario il CLN Cusmo Lise è a meno due lunghezze dagli spareggi. Promozione iniziamo dalla Chaminade. Dopo la sconfitta pesante in casa della capolista Tombesi Ortona è fondamentale tornare al successo domani al Pala Selvapiana contro il Capurzo. Come detto nella Tana dell'Ortona, nulla da fare per i ragazzi di Pizzuto. Gli abruzzesi tra le mura amiche hanno vinto le gare e viaggiano a vele spiegate verso la vittoria del campionato. Poco male, importante ora rimettersi subito in carreggiata e centrare il successo contro il Capurzo con Pagine attualmente al penultimo posto a quota 14 punti. Spesso queste gare rappresentano delle insidie maggiori rispetto ai pronostici. Praticamente la Chaminade ha tutto da perdere considerando che i tre punti servono a tutti i costi per mantenere la quarta piazza. Il calendario non prevede più scontri diretti per il rosso-blu. Da qui alla fine, questo non vuol dire che ci saranno gare facili ma sicuramente sulla carta la Chaminade partirà favorita. Galvanizzato dal successo largo contro il Canosa, il CLN Cusmo Lise. Sabato scorso Barrichello Show e avversari Annichiliti. Domani trasferta insidiosa a Manfredonia per i ragazzi di San Gennario. Sicuramente una delle squadre più giovani di tutto il torneo, quella del presidente dell'Uomo che ha puntato in collaborazione con il mister sul gruppo storico supportato dai vari Joe Alonso, Barrichello, Everton ed altri ragazzi della Junioles che pian piano stanno entrando in pianta stabile nelle rotazioni. Domani probabilmente ultima chiamata play-off sia per il Manfredonia che per i Cussini. Insomma, sicuramente sarà un match giocato al massimo con l'obiettivo tre punti da parte di entrambe. Pugliesi sicuramente più forti in casa che in trasferta come dimostra l'andamento avuto fino a questo momento. Per il CLN c'è anche la voglia di riscattare la sconfitta dell'andata. Sicuramente una delle peggiori prestazioni stagionali per passarelli e compagni. Adesso le grafiche dei tornei regionali. Calcio a 5 e Serie C1 per la diciottesima giornata a Fossaltese, Cerce Maggiore, Montenero, Saracena Fuzzal, Kemarin, Rialvenafro, Mirabello, Aesernia Fuzzal, Castelpagano, Roburagnone, Virtus Estese, Arcadia Termoli. Calcio a 5 e Serie C2 per la sedicesima giornata a Castel del Giudice, Cassiopea, Roccaravindola, Pietrafuzzal, Collia, Volturno, Montorio Nefrentani, Montes, Montagano, Petrella, Riccia, Sestese, Vinchiaturo, Frosolone. Domani, gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia nazionale per la Saracena Fuzzal, San Giuliano del Sannio, arriva il Bagheria, siciliani forti del 9 a 1 delle andate, squadre in campo alle 16. Per il calcio regionale si apre domani con i classici anticipi la settima di ritorno, sia in eccellenza che in promozione. Start alla settima giornata di ritorno prevista per domani per i campionati di eccellenza e promozione. Per la massima serie regionale, attesa per la vicecapolista Vasto Girardi al Castaldi di Roccaravindola, al suo match interno contro la Frentania, partita sulla carta da pronostico scontato con i padroni di casa vogliosi di riscattare lo scivolone di sette giorni fa a Piedimonte-Matese. Ospiti in cerca di continuità di risultati dopo la bella vittoria riportata sul Boiano. Si preannuncia un match divertente che sarà diretto dal signor Vincenzo Castropignano di Ercolano. Il campo basso 1919 se la vedrà al nuovo antistadio Selvapiana con il campo di Pietra. I ragazzi di Mister D'Aversa sono reduci dal pareggio contro la capolista e tenteranno domani di portare a casa punti pesanti in ottica salvezza. Padroni di casa in cerca di una vittoria che gli permetta di evitare l'ultimo posto in ballo con lo spinete che significherebbe una retrocessione diretta. Partita delicata che sarà arbitrata dall'isternino Cristian Romei. Match casalingo per il sesto campano che incontrerà il Boiano di Mister Gioffre alla seconda trasferta consecutiva dopo la sconfitta di Serra Capriola. Entrambe le formazioni cercano punti pesanti in chiave play-out. Arbitraggio affidato a Gianmarco Meo di Sernia. 90 minuti interni per l'Alife che se la vedrà con il Real Guglionesi. I neroverdi sono in cerca di un risultato positivo mentre i ragazzi di Mister Morra intenzionati a portare in campo il loro miglior gioco e tanta disciplina per cercare di garantirsi una tranquilla salvezza. Arbitro del match sarà Fabrizio Saluppo di Campobasso. Scendendo in promozione la capolista FVP Matese incontrerà sul proprio campo il Molise. Sono reduci da due significative vittorie perciò domani obiettivo sarà quello di mantenere la vetta della classifica per l'una garantirsi una tranquilla salvezza per l'altra. Arbitraggio a cura del signor Pasqualino fattore di Sernia. Chiude gli anticipi il match tra il comprensorio Vairano e la Cliternina che si disputerà allo stadio Cantelmo. I biancorossi indirizzeranno tutte le loro energie per garantirsi una salvezza tranquilla mentre i ragazzi di Mister Grieco domani in campo per portare a casa punti pesanti in chiave playoff. Arbitro del match sarà il signor Nicola Di Mario di Campobasso. Domani la Frentania dovrà affrontare il vasto Girardi. Mattia Cacchione, grande partita soprattutto sei stato sfortunato perché in alcune occasioni non sei riuscito a dare quella forza giusta al tiro, ai tiri che hai fatto però alla fine la cosa che importava il più risultato è arrivata questa bella vittoria. L'unica cosa che contava era veramente i tre punti anche perché venivamo da tre sconvitte non casalinghe in trasferta ed era brutto. Oggi dovevamo vincere assolutamente con il Boiano anche perché questa partita vale doppio potrebbe valere doppio, visto anche il risultato dell'andata abbiamo vinto 2-0 all'andata, 1-0 al ritorno essendo una diretta concorrente è buono, quindi ottimo per i tre punti. Per la prestazione il goglio lo voglio sempre però va bene così. Vittoria pesante soprattutto perché vi rilancia nella zona medio-alta della classifica quindi soprattutto vi dà più tranquillità per le prossime due gare che appaiono proibitive. Sì, le prossime gare sono molto dure specialmente la trasferta domenica sabato a Bastogirardi e poi abbiamo la gara casalinga contro Lisarnia però dobbiamo metterci tutto quello che siamo e dare il massimo di noi. In anticipo anche il campo di pietra sul campo del campo basso 1919. Samuele Madonna, tu un ruolo tra virgolette nuovo per te nella gara contro Lisarnia hai giocato praticamente alle spalle di Guglielmi il primo tempo? Ho giocato mezza la prova mi sono alzato spesso sia per non far impostare Fazio e anche così in fase di possesso stavo più alto. Abbiamo provato in settimana questa cosa e è andata bene. È andata bene infatti perché avete colto un buon punto e diciamo vi siete ritrovati dopo un periodo un po' difficile. Sì, è stato difficile però fortunatamente oggi siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare e ora dobbiamo dare soltanto continuo ai risultati. Un'ultima cosa da ora alla fine saranno tutte finali perché c'è da centrare l'obiettivo salvezza. Sì, è un obiettivo importante ora ci sono partite tutte fondamentali con il 19-19 scontro diretto poi ad Alife quindi dobbiamo fare il massimo abbiamo due, tre, quattro settimane che dobbiamo dare il cento per cento se vogliamo salvarci. Trasferta decisamente impegnativa per lo Spinete domenica in campo alla Cannarza di Termoli. Francesco Cornacchione dello Spinete qual è il tuo giudizio sulle squadre che come a voi combattono per la salvezza diretta almeno quella affrontata finora? Penso che sarà una grandissima e anche una bellissima lotta perché sono tutte squadre che vogliono vincere vogliono punti per raggiungere appunto la salvezza. Ci sono ormai tutte le squadre soprattutto noi che stiamo in bassa classifica che ogni domenica non puoi mai sapere come va a finire perché ci redono possono crederci con il vasto Girardi possono cercare di vincere con l'Isernia e possono anche riuscirci. Di conseguenza adesso dobbiamo pensare solo a noi perché se riusciamo a portare altri buoni risultati se riusciamo a pensare sempre a vincere poi sono gli altri che devono dare un occhio di riguardo a noi. Torneo di promozione Lururi alla ricerca del riscatto contro il Casalnuovo. Teo Campofredano attaccante dell'Ururi adesso Teo si torna sul vostro campo che il vostro fortino arriva a un Casalnuovo in posizione complicata però comunque verranno da voi a giocarsi la partita anche se sanno che è una partita complicata. Sì è sempre una partita complicata al Fiorilli però tutti vengono a giocarsela e tutti sanno che siamo una squadra giovane che abbiamo questi cali di concentrazione e alcune squadre un po' più esperte pugliesi o non possono approfittarsene con un po' di esperienza in più. Teo un'ultima cosa che camminato di promozione è questo secondo te? Camminato strano perché sembra Matese un po' più avanti Pietro Mondo con un'ottima squadra chi è che secondo te l'Ururi o stesso comunque se la giocherà fino alla fine chi è messo un po' meglio? Io credo che tra le prime sei posizioni in classifica la squadra più preparata di tutte sia tra Penzo e Pietro Montecorvino perché li vedo più esperti più preparati più concentrati sull'obiettivo anche se non occupano la migliore parte non sono la capolista ma io li vedo come la più organizzata è la più forte di tutte noi siamo andati lì abbiamo regalato un risultato visto alcune vicende però possiamo giocarci tra le sei squadre che occupano il premier per sei posizioni se la possono giocare tutti con tutte L'ultima cosa a livello personale invece ti ritieni soddisfatto il mister comunque quando ti fa giocare sei sempre pronto in questa partita hai segnato sei entrato a posto di Caggiano che ovviamente non hai 90 minuti nelle gambe no certo io sono sempre a disposizione del mister visto che vengo anche da un lungo stop quindi sono a sua disposizione quando c'è bisogno o da titolare o non va bene lo stesso non c'è problema la partita dura 90 minuti il Castelmauro è proiettato alla gara di Ferrazzano primo anno sedile è portiere del Castelmauro la nebbia frena la corsa verso i playoff sì no vabbè la nebbia da come si era messa abbiamo preso praticamente la stava anche perdendo la partita quindi diciamo non lo so se è un vantaggio o uno svantaggio che comunque sia stata sospesa anche perché è stata sospesa sul 2 a 1 per loro siamo andati in vantaggio praticamente con un gran gol di Paolucci che è un under ha fatto veramente un grandissimo gol e poi non lo so al rientro dall'intervallo non lo so forse abbiamo avuto un blocco mentale che ha portato diciamo a farci prendere due gol però ti ripeto è stata sospesa quindi meglio così si recupererà più in line dando uno sguardo alla stagione in generale che voto da Primiano Sediglie al Castel Mauro ma guarda io come come impegno di tutti i ragazzi di tutti i miei compagni di squadra diciamo un 7 forse se qualcuno ci avrebbe messo un po' più di impegno saremmo stato proprio una squadra praticamente da 7 e mezzo perché comunque diciamo siamo tutti giovani la squadra è stata tutta cambiata rispetto all'anno scorso quindi c'è stato un cambio anche di allenatore però questo ha portato comunque i suoi frutti e alla fine 30 punti noi dobbiamo salvarci per poi praticamente toglierci qualche soddisfazione più in là la post season non rappresenta un obiettivo per voi però continuando su questa strada può tranquillamente arrivare sì guarda noi come ti dicevo prima cerchiamo di fare più punti possibili anche per lottare insomma per arrivare a una zona una zona playoff poi l'obiettivo principale è quello primario è sempre la prima la salvezza e speriamo speriamo che arrivi al più presto possibile per poi cercare di fare qualche punticino in più per lottare anche per la zona playoff insomma pallavolo maschile di serie C domani sul campo dell'Ortona per la Laborvetro Campobasso primo servizio alle 19 in serie di femminile sempre domani alla palestra di Villa De Capua la nuova pallavolo Campobasso alle 18 scenderà in campo contro il Cordigeri torneo di street soccer deve mantenere deve ancora muovere la classifica il Tottenham ne abbiamo parlato con Colantuono Nunzio Colantuono di Machina Cars Tottenham è arrivata una sconfitta al termine di una sfida comunque che avete giocato a testa alta sì siamo contenti della partita forse c'è stato qualche episodio che ci ha non ci è andato a favore però alla fine siamo contenti della nostra prestazione potremmo ottenere qualcosa in più speriamo nella prossima dando uno sguardo alla manifestazione di livello alto dal punto di vista tecnico ma è una novità per il Molise sì ce ne siamo accorti che a livello tecnico è molto alta però molto meglio così riusciamo a imparare qualcosa di più anche noi e ci divertiamo un po' di più qual è il vostro obiettivo per questo campionato? non retrocedere c'è anche il fantacalcio che rende la manifestazione più interessante dal punto di vista personale come sta andando il fantacalcio? beh diciamo che il fantacalcio è una cosa molto divertente però visto che abbiamo giocato contro la favorita e diciamo la seconda favorita del campionato penso che a livello del fantacalcio non siamo andati molto bene però recupereremo domani al Pala Unimol è in programma l'edizione 2018 di Laboret Fides manifestazione di group cycling oltre 150 riders che a partire dalle 16 parteciperanno a tre ore di lezioni nelle quali andranno a miscelarsi allenamento musica sensazioni ed emozioni e che saranno sapentemente condotti da istruttori provenienti da diverse zone d'Italia torniamo a parlare di calcio di prima categoria il Macchia Valfortore prosegue la sua corsa alla salvezza diretta Stefano Cifelli il numero 4 di Macchia Valfortore una sconfitta forse neanche troppo meritata perché avete dato del filo da torcere ai padroni di casa nella maniera più assoluta sono d'accordissimo con te sapevamo benissimo della bravura e della forza della nostra squadra e della squadra che andavamo a incontrare e anche delle nostre possibilità siamo venuti qui magari per provare a giocarcela ci abbiamo provato abbiamo avuto una grossissima occasione sullo 0-0 e si sa che in queste partite con squadre così forti quando non sblocchi determinati episodi al 99% la partita ti può girare contro dopodiché bisogna dire che forse il risultato è un po' troppo largo per quello che si è visto realmente sul campo però poi a mente lucida si devono fare i complimenti ai nostri avversari che meritano la classifica che hanno e che credo che con il loro potenziale e un impianto del genere tra l'altro gli faccio i complimenti è davvero bello credo che hanno tutte le potenzialità per fare il salto di categoria Stefano intanto nella prossima giornata chi vi attende anzi chi attendete perché dovreste giocare in casa e come vi preparate domenica prossima dobbiamo giocare in casa contro il Larino e sarà per noi un'occasione fondamentale per ripartire siamo convinti che non meritiamo la classifica che abbiamo in questo momento e ce la metteremo tutta per arrivare a fine anno ad inserirci tra le prime cinque e poi si sa i playoff non si può mai sapere ci andiamo a giocare il sogno domani a Petrella Tifernina passarella per i campioni 2017 del ciclismo molisano con la consegna dei premi e dei riconoscimenti agli atleti che si sono distinti nell'anno solare 2017 in seno alla FederCiclismo Molise bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio buon pomeriggio